Diciamo che sono arrivate diverse sollecitazioni ultimamente e visto questa voglia di portare un cambiamento alla città e di dare un segnale, ho scelto di entrare nel campo e provare a fare la mia parte. In cosa bisogna cambiare? Ci sono tante cose da mettere a posto, secondo me ha perso un po' di luce in questi anni, un po' anche per tanti motivi legati alla situazione economica, però c'è bisogno di freschezza, c'è bisogno di avere anche qualche idea nuova. Hai detto anche che c'è bisogno di molto pragmatismo. Sì, io sono una persona che generalmente parla poco, sono più abituata a fare e mi piace anche ricordare un modo di dire che insomma ce l'ho in mente e che è quello che chi è più lento a promettere e più veloce a mantenere. Quindi fatti, poche parole al vento, analizzare bene la situazione, fare le dovute considerazioni e poi agire. Fico, lei ci ha tenuto a sottolineare anche il fatto che è un candidato giovane come Poletto, anche voi rispondete con un candidato giovane. Certamente Bassano in questo momento ha bisogno di freschezza e di novità e secondo me Tamara Bizzotto rappresenta proprio questi elementi. Abbiamo condiviso all'unanimità la sua candidatura e sono sicuro che con Tamara Bizzotto faremo molta strada assieme. Un mese e mezzo di trattativa con il PDL e poi avete deciso alla fine di correre da soli, come mai? Abbiamo deciso di correre da soli perché è giusto cominciare a dire ai cittadini che cosa vogliamo fare. La candidatura di Tamara Bizzotto non verrà ritirata neanche se si dovesse aprire nuovamente un dialogo con il PDL, cioè il vostro candidato sindaco rimane lei. Il nostro candidato sindaco è lei, noi siamo aperti a tutte quante le alleanze che condividano la sua persona e riteniamo che in questo momento più che la politica sia la persona che fa il gioco corretto per il bene dei cittadini bassanesi. Grazie a tutti.